Ok, lo presentiamo a un brano in dialetto egiziano. Ringraziamo Yossri Saad, il nostro caro amico che ha scritto il brano insieme a Dodo Samoso. Ringraziamo Eddie Marcon per le voci nella registrazione, Marco Bazzani. Bene, inshallah! Ringraziamo Yossi 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 Amcizai, barabonte 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 Tu le habere febibir Hanau a tabas nischmohi Tu le habere febibir Yaman leute nefashi Ehi! 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 PASXIS!